Buonasera, è difficilissimo, ringrazio Cristina, anche se mi fa sempre questi tiri mancini perché chiama me come clinica e quindi una clinica che ha l'onore e l'onore di vedere molti bambini e parlare in un convegno dove ho ascolto chi mi è stato maestro e chi mi è maestro e quanto mai imbarazzante soprattutto dopo le lezioni perché sono state delle vere e proprie lezioni che ho sentito nel pomeriggio. Il registro con il quale io offrirò il mio contributo è un registro molto semplice parte da un'attività ordinaria e da quella che costituisce il mio quotidiano l'osservazione di numerosi bambini numerose dimensioni, numerose complessità e direi numerose unicità. Cristina ha l'onore e l'onore di unire i puntini e a me vengono in mente un po' quelle immagini della settimana enigmistica dove non solo si uniscono i puntini ma poi bisogna anche colorare quegli spazietti in cui ci sono i puntini e questo rende tutto molto più interessante perché dà origine a delle forme che sono assolutamente nuove quando sono in qualche modo costruite con il contributo di tutti come in modo così chiaro ed esplicito ha detto il professor Balsola. È difficile un po' per me riassumere la complessità un po' di questo tema che mi è stato dato. È sempre più evidente che l'autismo necessiti di una visione ampia e che debba essere molto descritto e poi speriamo anche compreso. Quindi la clinica ha un po' l'onere di descrivere, di comprendere, di presumere che avendolo compreso possa anche in qualche modo poi offrire un intervento, un intervento di aiuto, direi così, di aiuto, un intervento di cura perché se così non fosse un approccio più dimensionale rischierebbe in qualche modo di cristallizzare in un'unica forma quello che è il bambino di oggi e poi vedremo quello che è l'adulto di domani. Quindi le riflessioni così che condivido con voi non sono risultato di ricerche, sono delle riflessioni che nascono da un'osservazione clinica e quindi dalla scommessa, dalla sfida che questa estrema variazione di fenotipi moltiplici porta. Questo è un po' il tempo del nostro passato, un tempo che forse dobbiamo un po' anche imparare a lasciare alle spalle, un tempo in cui gli approfondimenti un po' solitari di ciascuno di noi creavano un po' delle storie in qualche modo un po' ridondanti, un po' solipsistiche, dei pezzi di verità che potevamo considerare quasi verità assolute perché, come dire, erano pezzi di verità. La questione è che le verità sono diventate tante e quindi la conoscenza è invecchiata, la conoscenza si è ampliata, è diventata decisamente più complessa e quindi quella che si pensava nel tempo passato essere una verità assoluta, come dire, fortunatamente mostra tutta la sua debolezza in quella che è una verità assolutamente relativa. E questa è un po' la prima domanda che dal punto di vista clinico noi ci poniamo. Chi è? Chi è questo 1 su 54? Che fisionomia diamo? Che forma ha? Che comportamento manifesta? Qual è il suo volto? E la sfida da raccogliere è proprio un po' quella, di considerarlo tale, come si diceva prima, di considerarlo unico. Quanti anni ha, è un maschio o una femmina? Quante diagnosi ha? Quante concorrenze ha? Parliamo di autismo e parlo di un fenotipo, parlo di un genotipo, parlo di un endofenotipo. E questa unicità, diciamo, che non passa sicuramente attraverso un sistema categoriale, che per quanto cerchi così di descrivere nella sua evoluzione, in modo sempre più preciso, in modo sempre più rigoroso, in modo sempre più analitico, l'unicità della persona verso la quale stiamo cercando di indirizzare un intervento di cura e di aiuto, potrebbe quasi in modo un po' vertiginoso far moltiplicare tantissime categorie e quindi tenerci ancora molto più lontano da quella speranza di comprensione di quei paradigmi multipli e di quei paradigmi così multidimensionali verso i quali noi stiamo cercando di porre la nostra attenzione. E allora penso che, come dire, il take message che ho già preso è proprio questo, cioè che per conoscere dobbiamo soltanto avere un po' il coraggio di esplorare e per esplorare, questo convegno sta mostrando che l'esplorazione è solo se si ha un po' il coraggio di superare il confine, il confine di quello che è il regno, il regno ignoto, il regno del vicino, il regno che ciascuno di noi abita, sicuramente con la propria competenza e con la necessità di andare verso quelle zone di confine dove abitano altri, dove abitano altri di noi, comunque altrettanto impegnati nella conoscenza di quello che è il loro regno. Allora è come se il nuovo avesse una doppia direzione, la direzione dell'approfondimento del proprio regno e la direzione della conoscenza del regno vicino, o magari anche molto lontano, ma che stiamo vedendo così tanto lontano non è. E allora se il nostro regno è il paradigma del noto, il regno del vicino è il paradigma del nuovo, perché a volte, come dire, l'erba del vicino è vero che è anche più verde. E' il nuovo come il regno dell'oltre confine e quindi forse in quel regno oltre potrebbero trovare risposta anche delle domande molto cliniche e molto ordinarie e molto specifiche che chi come me si occupa di riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico a volte non trova. E quindi forse queste risposte mancanti vanno proprio un po' cercate nei regni vicini prossimi a noi. Il nuovo ci dice che sicuramente il grande mito da sfatare dal punto di vista neuropsichiatrico è il mito della diagnosi stabilizzata. Sappiamo che siamo di fronte a una instabilità diagnostica importante che il disturbo dello spettro autistico diviene e si manifesta nel tempo che il disturbo dello spettro autistico può non presentarsi da solo che il disturbo è un disturbo del neurosviluppo ma è fra i disturbi del neurosviluppo e con i disturbi del neurosviluppo e sappiamo ormai, lo vediamo, è la nostra evidenza che il disturbo dello spettro autistico è associato anche a tutto ciò che non appartiene al proprio regno e quindi a tutto ciò che mai avremmo pensato potesse in qualche modo approssimarsi all'interno della sintomatologia core del disturbo così come noi neuropsichiatri siamo abituati a considerarlo. È un disturbo che, come si diceva una volta è un disturbo pervasivo dello sviluppo è un disturbo pervasivo dello sviluppo nel senso che pervade che va oltre anche all'apparato nel quale noi cerchiamo in qualche modo, in modo un po' per autorassicurazione di contenerlo. Il disturbo diviene il disturbo diviene, il disturbo cresce il disturbo si modifica segue dei percentili propri in una interazione che ormai la si percepisce e la si dimostra abbiamo sentito i contributi che ce l'hanno realmente dimostrato cresce in che cosa? Cresce facendo leva su ciò che lo genera e quindi su queste radici sulle quali noi ci appoggiamo ma anche su quello che noi troviamo cioè il disturbo nasce cresce, si sviluppa e matura è come una pianta che matura la propria vita la propria connessione su ciò che trova su ciò che è su ciò che è su ciò che trova attraversando epoche, fasi e tempi e quindi abbiamo in questa quercia tutta una serie di tempi anche come se ci fosse un tempo per e un tempo per anche la comparsa di un sintomo o un tempo per e un tempo per la comparsa di un segno che poi può diventare sintomo in un'epoca differente attraversando un altro apparato difficile separare i rami di questa quercia difficile separarli da questo tronco comune difficile mantenere le classificazioni categoriali in un processo che noi clinici vediamo essere sempre più dinamico sempre più instabile quasi a far pensare clinicamente di essere di fronte a una dimensione transnosografica cioè dell'autismo come una dimensione che attraversa le epoche e lo spettro autistico considerato un po' così come una dimensione diciamo transnosografica potrebbe rappresentare un punto di inizio dello sviluppo di traiettorie psicopatologiche ma anche essere un po' forse alla base di personalità non psicopatologiche come la gravità le specifiche caratteristiche morfologiche di un danno porterebbero come a esitare in diversi gradi poi di neuropatie o di diversi disturbi neuropsichiatrici sono contenta di avere una cosa in comune con il professor Balzola e quindi la matassa diciamo la matassa da sbrogliare avrebbe in sé quindi prima della diagnosi categoriale tutto l'insieme dei disturbi del neurosviluppo che non sono più protetti da quella che era una sorta di barriera difensiva dove avremmo voluto tutte le altre patologie tenercele fuori queste intersezioni cominciano ad approssimarsi e abbiamo un'intersezione fra i disturbi del neurosviluppo e un'intersezione di disturbi altri di questi altri regni che avanzano e che in qualche modo coesistono con delle vicinanze assolutamente differenti a quelle che è il cuore del disturbo e quindi dobbiamo avere una grande diciamo attenzione alle nuove entrate e sicuramente all'influenza che l'ambiente di fatto attorno alla nostra pianta e così abbiamo delle associazioni che sono molto più presenti rispetto ad altre la necessità che abbiamo per poter procedere nel processo di cura a una semplificazione a dover porre l'attenzione sulle nuove entrate sapendo che l'errata anche un'errata regolazione epigenetica contribuisce a tutto ciò che è neurosviluppo ma molto di più e molto altro e quindi le patologie neurodegenerative fra cui l'autismo è uno ma so che poi stamattina avete parlato anche di altre patologie degenerative importanti allora la questione della definizione diagnostica è ormai considerata diciamo un fattore di studio e pone in qualche modo la sua necessità l'attenzione al riconoscimento dell'evoluzione di segni nuovi di segni nuovi che devono essere riconosciuti dimensionalmente a seconda dell'età segni nuovi in quanto la complessità del quadro clinico ci spinge ci spinge lontano dal noto da ciò che noi magari cerchiamo di possedere di difendere quasi come che andiamo a cercare diagnosi pensando di trovarla quindi ogni elemento che noi andiamo a cercare ci conforta e ci conferma l'idea che noi abbiamo in qualche modo a priori ma questa cosa è perché ci fa escludere a priori ciò che nella nostra visione categoriale non entra e quindi esclude anche dei segni che sono sintomi di regni altrui ma che concorrono nella comprensione della dimensione autistica nella sua totalità e quindi l'analisi dei segni età dipendente l'analisi dei sintomi età dipendente i percentili di sviluppo atipico sono ormai elementi che anche in modo molto anedotico in modo molto ordinario dal punto di vista clinico noi siamo in grado di affrontare e allora una semiotica neuroevolutiva complessa ci può insegnare questo cioè non temere di identificare dei segni nuovi che potrebbero diventare dei sintomi di domani e non possiamo parlare di dimensioni se non accettiamo di parlare di comorbidità precoce e di diagnosi differenziale precoce senza uno studio multidimensionale non possiamo intervenire l'intervento è fondato su questo è fondato su una diagnosi funzionale e una diagnosi funzionale è una diagnosi fenomenica dimensionale abbiamo visto tutti la fatica dei nostri servizi che hanno cercato di orientarsi verso modalità di intervento maggiormente basati sui segni quindi maggiormente basati su ciò che vedo maggiormente basati su interventi che chiamiamo evidence based ma anche questo non è più sufficiente cioè integrare fenomeniche differenti lasciandoci coinvolgere dai segni sintomi degli altri apparati perché poi tutti questi sintomi tutte queste comorbidità tutte queste comorbidità si distribuiscono si distribuiscono secondo anche un'età dipendente quasi ci fosse una calendarizzazione delle coccorrenze e quindi come una programmazione perché stiamo parlando di un eurosviluppo e quindi noi sappiamo vediamo che nella prima infanzia è più facile trovare dei disturbi gastrointestinali nella seconda infanzia magari più facile trovare dei quadri epilettici quindi anche nella dimensione autistica le coccorrenze le comorbidità si si programmano si si sviluppano così come lo dicevamo è il core dell'autismo che si sviluppa e quindi il deficit di integrazione sensoriale o gli interessi ripetitivi stereotipati più facili di trovarli sulla fine della prima infanzia vediamo invece come anche ci siano dei tempi dei fili di questa matassa che come dire a modi spirale integra la sua fenomenica con quella che noi avevamo relegato unicamente nel sistema nervoso centrale e allo stesso modo come nella prima infanzia anche nell'adolescenza troviamo la presenza di quadri maggiormente distribuiti sicuramente poi nella relazione che mi seguirà avrete modo di avere questo racconto in modo estremamente analitico e preciso però quello che noi vediamo è che anche quadri ad esempio depressivi o i quadri ansiosi che ci aspettiamo di trovare e li troviamo nella tarda età evolutiva o nell'adolescenza hanno una fenomenica assolutamente distinta e quindi la depressione nei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico o i disturbi d'ansia non sono la depressione o i disturbi d'ansia che noi potremmo trovarci comunque in adolescenti non affetti dal disturbo dello spettro autistico cosa significa che esiste quasi una specificità di mostrare questi stessi tratti allora in questo senso io dicevo attenzione perché forse l'autismo è un tronco comune o è un punto di partenza di deviazioni multiple e di traiettorie multiple complesse dove quadri intermedi si intrecciano con altri quadri intermedi come se avessimo davvero una depressione tipica o un'ansia tipica e quindi la resistenza al cambiamento o l'aumento dei movimenti ripetitivi o un incremento della fatica nella gestione delle transizioni che noi ci terremmo a mettere nella scatola disturbo dello spettro autistico magari invece è una comorbidità con un disturbo d'ansia e iniziamo anche poi a introdurre sempre in questo quadro un po' dimensionale una variabile che prima era nuova ora decisamente non è più nuova ed è quella della caratterizzazione di genere quindi di una fenomenica dello spettro che non dipende più solo dall'età ma che dipende non dipende più solo dal contesto ma dipende anche dal genere quindi una fenomenica che diventa estremamente dinamica e che ci fa interrogare su dei segni sintomi sui quali abbiamo meno abitudine e quindi una matrice di analisi che dobbiamo un po' iniziare a considerare è proprio questa e ci complessifica la vita maggiormente noi possiamo trovare benissimo nel sesso femminile una forte tendenza al camouflage e quindi una difficoltà anche nell'arrivare puntualmente a una diagnosi ma perché le caratteristiche sono decisamente diverse da quelle che noi ordinariamente siamo abituati ad andare a cercare possiamo avere dei legami affettivi molto forti possiamo avere un interesse sociale importante un'alta flessibilità cognitiva un'ottima capacità di programmare il proprio lavoro una fluenza verbale meravigliosa e noi diciamo tutto questo cosa c'entra con l'autismo e questo c'entra con l'autismo e allora vediamo la presenza anche di disturbi diversi disturbi prevalentemente internalizzanti nel sesso femminile come ansia o depressione e dei disturbi invece più squisitamente esternalizzanti nel sesso maschile come disattenzione o iperattività ma l'intreccio dimensionale ahimè per noi ahi noi è ancora molto più complesso perché ci dimentichiamo sempre che abbiamo a che fare anche con la grande quota di co-diagnosi di disabilità intellettiva e che l'autismo così combinato si espone a una maggior frequenza una maggior possibilità di incontrare anche dei disturbi psicopatologici e quindi la fenomenica che diviene la fenomenica che diviene che attraversa l'arco della vita come quella pianta che abbiamo visto crescere ad ogni passaggio è come se fosse più esposta decisamente più esposta a eventi interni e a eventi di contesto e quindi poi lo sentiremo sicuramente dopo di me questa vulnerabilità psicopatologica è decisamente maggiore se noi cominciamo a combinare cluster e cominciamo a combinare disturbo dello spettro autistico disabilità intellettiva vediamo un deciso incremento allora dei disturbi dell'umore dei disturbi d'ansia del disturbo ossessivo compulsivo eccetera quindi accettare la perdita del confine potrebbe essere molto intimorente ma sicuramente quello che sappiamo è che la categoria se vogliamo andare verso la comprensione che può portarci alla cura quello è sempre un po' il punto finale di qualsiasi percorso diagnostico è vero che la categoria semplifica e stabilizza la dimensione complica perché insegue lo sviluppo però le differenti traiettorie di neurosviluppo possono essere modellate soltanto attraverso questa interazione complessa e se si modella la patologia si può modellare anche la salute e quindi se ci sono dei fattori epigenetici di rischio ci sono dei fattori epigenetici protettivi ed è sul fattore epigenetico protettivo ed è per convergere sui fattori epigenetici protettivi che oggi siamo arrivati qua ok quindi è chiaro che nella storia in questa evoluzione noi dobbiamo trovare delle lettere trovare dei segni e trovare dei sintomi e identificare molto molto nel piccolo abbiamo parlato dei millegiori abbiamo parlato di quando si è molto indietro rispetto a parlare di neonatologia oggi è sicuramente possibile mai avremmo potuto pensare a questo solo fino a qualche anno fa perché è in quel piccolo che noi andiamo a cercare di capire poi quello che di fatto stiamo affrontando di una pervasività all'interno di tutto l'organismo che il disturbo dello spettro autistico mostra e tutto questo diciamo è corollario di sintomi cosa ci mostra ci mostra che abbiamo davvero un'ampia varietà di fenotipi clinici abbiamo tantissimi fenotipi intermedi abbiamo la copresenza di diversi disturbi del neurosviluppo abbiamo delle fluttuazioni dimensionali nel profilo di funzionamento e una grande instabilità della diagnosi perché se i segni e i sintomi mutano allora è chiaro che anche la conseguenza deve essere assolutamente cambiata e quindi anche cambiare la diagnosi abbiamo dei cluster fenomenici che si aggregano a volte in modo diverso su una o più tracce più fili di questa matassa che noi dobbiamo sbrogliare allora se noi intendiamo lo sviluppo come uno e il disturbo come uno ha espressione multipla il disturbo è uno ha espressione multipla allora la scomposizione categoriale delle co-diagnosi diventa solo una semplificazione procedurale per un ipotetico processo di cura e la conoscenza nuova e lo studio nuovo sarà quello di dire ma sono tutti diversi sono patologie diverse sono aggregate in modo diverso quindi sono linee differenti e quindi hanno anche una causalità sottostante differenti la clinica deve riflettere sui cluster aggregati di sfaccettature diverse che il polimorfismo fenotipico dell'autismo ci sta mostrando per poter verificare se stiamo parlando di uno se stiamo parlando di tanto o se stiamo parlando di buio cioè che non sappiamo che cos'è è chiaro che allora la sfida che noi facciamo è una sfida di di compimento della diagnosi no della diagnosi al trattamento gli interventi sono di molti tipi da quelli più strutturati a quelli meno strutturati pur essendo tutti all'interno della stessa diciamo cornice epistemologica di riferimento lavoriamo nella riabilitazione su un fenomeno no ma qual è il fenomeno sul quale noi stiamo lavorando perché la scelta anche poi di cosa fare dal punto di vista del trattamento è comprendere in modo semplice la differenza di funzionamento fra un funzionamento tipico e un funzionamento atipico come se ci fossero degli estremi di funzionamento sulla medesima gaussiana c'è qualcosa che accomuna allora in questa estrema variabilità in questa estrema fluttuazione in questa estrema instabilità diagnostica qualcosa che accomuna il funzionamento atipico c'è un denominatore che possa darci una spiegazione la più semplice di un funzionamento atipico io la trovo in questo no l'arbitrio condiviso è il paradigma originario attraverso il quale noi comunichiamo socializziamo viviamo i nostri interessi integriamo le nostre sensorialità la logica assoluta è il paradigma originario attraverso il quale un soggetto con disturbo dello spettro autistico comunica socializza integra le proprie sensorialità e l'arbitrio condiviso è questo l'arbitrio condiviso accetta l'arbitrio condiviso accetta che uno stimolo possa avere un'altra funzione l'arbitrio condiviso accetta che A possa essere B che B possa essere A che A possa essere C e che quindi quando uno stimolo è ciò che rappresenta siamo nell'arbitrio condiviso quando uno stimolo è ciò che è siamo nella logica assoluta questa distinzione fa come dire una modalità di approccio e di stile comunicativo sociale di apprendimento assolutamente diverso questo è il gradiente dimensionale che fa la differenza all'interno dello spettro la questione dello stimolo in quanto tale e non in quanto rappresenta non in quanto simboleggia non in quanto rimanda e quindi è depositario di verità assoluta perché la logica assoluta è depositaria di verità assoluta la logica arbitraria diventa assoluta nel momento in cui viene condivisa e si presume che sia assoluta ma è solo condivisa non è assolutamente una verità assoluta questa differenza radicale determina la necessità di una traduzione allora in quelle che sono anche le formule di insegnamento e le formule di riabilitazione un apprendimento particolare richiede un insegnamento particolare un insegnamento corretto permette un apprendimento un insegnamento scorretto permette un apprendimento sempre nell'autismo noi abbiamo storie dimensionali di iper apprendimento con questo abbiamo solo esplorato un regno un regno un regno piccolo enorme e grande quello delle connessioni di questa multidisciplinarietà attraverso lo sviluppo ma abbiamo visto e vado veloce come ci sia una multidisciplinarietà non dello sviluppo ma una multidisciplinarietà nello sviluppo e che quindi ambiente genetica microbioma abbiamo sentito il sistema immunitario lo stress ossidativo le funzioni mitocondriali siano dentro in questo fenotipo in questo genotipo e in questo endofenotipo che ci dice che cosa dico che cosa penso che farò capitare che cosa è capitato e che cosa capiterà all'interno di questa matrice l'abbiamo sentita biopsicosociale è chiaro che stiamo cercando di semplificare una questione che è estremamente complessa cioè l'interazione fra ambiti così distinti biologico psicologico e sociale ma i segni sintomi di una voce devono in qualche modo interfacciarsi con i segni sintomi di altre voci e quindi come dire il passino che avevamo cominciato a fare della neuropsichiatria che da un braccio alla pediatria e da un braccio alla psichiatria deve fare altre braccia no? e deve andare giù e deve andare giù come abbiamo sentito oggi sulla conoscenza di altri di altri contributi sì e perché forse è davvero questa questione della comprensione della comprensione differente di chi vede il modo il mondo in modo differente ci richiede una alfabetizzazione differente per poter arrivare dal punto di vista abilitativo e riabilitativo a una sintonizzazione comunicativa allora sì che il contesto e quindi la nostra azione diventa un fattore protettivo e allora l'intervento abilitativo riabilitativo il farmacologico il medico costituiscono quello che è l'ambiente amichevole un ambiente amichevole ed è un ambiente un fattore epigenetico di protezione per portare a questo a questo che è il punto poi di ogni intervento su qualsiasi dimensione così complessa multidimensionale e multifattoriale la sinossi dei linguaggi cioè portare il modo di processare autistico a cogliere la verità dello stimolo in quanto tale ma la possibilità di fare un ponte fra lo stimolo e ciò che rappresenta sia questa una parola un'azione un compito un apprendimento una autonomia un'abilità motoria eccetera sì e questo è il punto d'arrivo questa è un'immagine a me molto cara sono le tre montagne di Piaget e sostanzialmente è quello che ci dice se uno sta dietro la montagna grigia pensa che di montagna c'è una sola se uno parte dalla montagna verde dice che le montagne sono tre allora sembra che tutti abbiano ragione in realtà la ragione è se tutti si mettono insieme e se ciascuno dice io dal mio punto di vista vedo questo tu vedi questo e tu vedi quest'altro e questo forse è l'auspicio che io faccio a me e l'augurio che tutti noi ci facciamo con questo vi ringrazio per l'attenzione sperando che il nostro sia davvero un tempo presente e che quindi la storia offra un racconto grazie 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 a tutti